Siamo arrivati a pochi ore dalla gara precedente, come ieri è successo, siamo cresciuti nel corso della gara, siamo cresciuti soprattutto in un fondamentale che l'attacco con la prossima ha fatto la differenza e quindi benvengano anche questi piccoli o grandi inconvenienti come i due giocatori che noi avevamo, questa difficoltà da superare nel corso della gara perché tutte cose che torneranno utili più avanti. Siamo arrivati con 17 pari, questa è successa con l'inversione di Mazzatelli, ci sono un pochino? Sì, ci sono un pochino, però ripeto, il lavoro del primo set in particolare l'abbiamo fatto bene, imbattuto a muro, quindi il lavoro basta poco per cambiare l'inerzia di un set, poi devo dire che sono contento invece di tornare l'altro approcciato subito nel secondo set e da lì in poi come se ne pare.